sempre 0 a 0 qua al nuovo di via olimpia tra la virtus castelfrentano e riba calcio scodellato un pallone centro dell'aria ecco riparte la virtus castelfrentano riprende il pallone non studio di niente un pallone facile preda del portiere ospite ecco vediamo quest'azione niente facile preda dei difensori ospiti ecco vediamo stato a lungo come va a finire rimessa laterale a nostro favore vediamo come va a finire quest'azione 0 a 0 il risultato parziale di questo primo tempo qua al nuovo di via olimpia tra la virtus castelfrentano che gioca con la classica divisa giallorossa nuova della cronica è la prima volta che l'intossano gentilmente offerti da un genitore di un nostro ragazzo camillo no domenico di camillo scusate rete rete ha segnato se non erro marco d'ottavio ha realizzato la prima rete per la virtus castelfrentano adesso palla al centro sarà ripreso il gioco da parte del ripa questa è la prima rete della gara risultato parziale qua al nuovo di via olimpia di castelfrentano virtus castelfrentano 1 ripa calcio 0 alle prossime riprese qua dal nuovo di via olimpia via olimpia di castelfrentano